Abbiamo costruito, grazie anche all'aiuto della nostra associazione degli abruzzesi in Germania, a Wolfsburg, abbiamo costruito questa bella opportunità che vede insieme in un protocollo che verrà firmato oggi l'Università d'Annunzio di Chiedi e Pescara con il governo tedesco e noi per la realizzazione di corsi nel periodo dell'infanzia ai ragazzi lì in Germania. Le persone che andranno lì saranno una decina di persone con condizioni di lavoro significativamente buone per cui con queste piccole cose costruiremo delle grandi opportunità. Un esperimento pilota che per la prima volta in Germania si compie e cioè la valorizzazione della cultura italiana in Germania attraverso l'insegnamento da parte di insegnanti di italiano e italiani che avranno un posto fisso, un posto a tempo indeterminato, sottolineerei anche con stipendio tedesco se posso essere realista, che è il doppio di quello di un insegnante di italiano che attraverso laureati dell'Annunzio potranno essere coperti in un numero cospicuo per i prossimi anni. Un esperimento che si spera possa essere ripetuto anche in futuro? No, ma soprattutto verrà ampliato perché ci sono anche altri stati che sono interessati tra questi la Svizzera a costruire condizioni per cui si riproducano attività anche in quei territori per i tanti italiani quindi con i corsi di italiano e formazione legata anche al legame per la loro terra di origine che si farà pure in Svizzera e in tantissime altre parti.